non avete più idee per i vostri parti in questo video ve ne mostro una velocissima sono qui su kriga design space ma poi andrò anche su silhouette studio a seconda del plotter da taglio che avete a disposizione quindi cominciamo subito a progettare il nostro cono o per meglio dire il nostro fagottino quindi andiamo a far clic che qua sul pulsante forme io vado a scegliere un quadrato quindi uno di questi normali non con i bordi arrotondati e vado a far clic che qua su questo lucchetto per sbloccare le proporzioni e vado a mettere una dimensione di 9,5 per 21 centimetri questa è una dimensione media ovviamente potete cambiarla secondo di ciò che volete inserire all'interno temporaneamente mettiamolo di colore bianco così riuscite a vedere meglio ciò che sto facendo ora seleziono questo rettangolo e faccio clic su questo polsantino che si trova in alto che serve per duplicare quindi lo duplico sblocco nuovamente però il lucchetto per modificare le proporzioni e vado a mettere una dimensione lascio sempre 9,5 ma metto 8 di altezza e vado a posizionarlo qua ora faccio esattamente la stessa cosa quindi duplico questa volta al posto che 8 di altezza vado a mettere 7 non dovete proprio essere precisi al millimetro non succede niente però diciamo che indicativamente questi vi serviranno come riferimento quindi poi andremo a cancellarli ora a questo punto andiamo a far clicca qua sul pulsante immagini scriviamo princess birthday ho dimenticato una r e andiamo a vedere quali sono i risultati che ci restituisce a me va benissimo anche il primo quindi questo e faccio clic qua su aggiungi alla tela ora ridimensiono volendo posso andare anche a cambiare il colore come ben sapete tutte queste parti vedete che sono suddivise in più livelli quindi posso mettere per esempio questo rosa oppure vado a far clicche qua sul pulsante avanzate vado a mettere un rosa completamente diverso per esempio posso andare qui e cambiare il tipo di rosa così un pochino più chiaro ora a questo punto seleziono tutto il gruppo vado ad aggiungere un offset lo metto di 0,05 quindi faccio proprio un offset molto piccolo e faccio conferma ora a questo punto temporaneamente li raggruppo quindi seleziono questo che come potete notare già un gruppo seleziono poi l'offset e faccio clic qua sul pulsante raggruppa ora vado a ridimensionare e lo ruoto quindi dovete mettere il mouse qui e lo ruotate in questo modo come sempre per fare una rotazione precisa dovete mettere 90 gradi quindi vado a ridimensionare così vado a farlo ripetuto ingrandisco un po così riuscite a vedere meglio vado a farlo un'altezza di circa un'altezza in questo senso qua di circa un centimetro e 8 2 per misurarlo dovete fare una cosa di questo genere purtroppo i programmi semplici così non sono come programmi di grafica che hanno delle guide non esistono quindi o comunque non dei reghelli ecco per essere precisi quindi così più o meno avete idea ecco di quanto può essere la distanza diciamo dal margine potete centrarlo quello che vi consiglio di non metterlo proprio eccessivamente largo perché comunque poi si andrà a restringere una volta che andiamo a chiuderlo e ad assemblarlo quindi non fatelo largo come abbiamo fatto largo nostro quadrato 7 proprio secondo me la misura proprio massima massima di riferimento ora a questo punto possiamo andare a nascondere questi due quadrati quindi uno e l'altro selezioniamo il rettangolo principale andiamo su menu operazioni poi vado a far clic su stampa prima del taglio e poi vado qua sul selettore colori vedete che qua c'è colore e poi motivo quindi seleziono motivo vado su filtro e metto il colore rosa in questo modo che design space per prime mi andrà a mettere tutti i motivi di colore rosa io vado a cercarne uno che sia molto semplice tipo questo che non disturbi più di tanto quindi posso mettere questo che chiaro chiaro questo che un po più scuro secondo me questo è già un po scuro ve lo faccio vedere ecco vedete che è comunque tanto scuro per la grafica che stiamo facendo è meglio questo è un pochino più chiaro vedete che anche esteticamente diciamo sta meglio a questo punto devo solo far clic qua su seleziona tutto e poi unisci i livelli e basta il mio progetto è terminato se vado a far clic qua sul pulsante crea mi dà l'opzione stampa prima del taglio ovviamente in questo caso devo andare a mettere a 4 oppure posso anche mettere a 3 e vedere se è possibile per esempio se voglio mettere due copie ecco vedete che su una 32 copie me le fa mettere probabilmente la dobbiamo vedere se la terza ci sta ecco la terza proprio al limite però ci sta quindi eventualmente se avete dei fogli a 3 di un certo tipo potete usare allora se avete una stampante laser una carta patinata lucida se non avete una stampante laser una carta fotografica da 120 grammi a questo punto proseguiamo nel senso che andiamo a selezionare il materiale quindi facciamo clic sul pulsante continua andiamo a selezionare la macchina che vogliamo utilizzare e a questo punto sceglierete voi il materiale in base comunque alla carta che avete scelto per esempio potete mettere light cardstock nel caso in cui abbiate scelto di utilizzare una carta fotografica appunto intorno ai 120 grammi ora usciamo da crea design space e entriamo su silhouette studio mi trovo qui su silhouette studio a questo punto la prima cosa che andrò a fare è prendere la stessa immagine che avevamo nell'archivio immagini di crea design space per esportarla ho utilizzato una stampante virtuale di nome bull zip per sapere come eseguire questa esportazione potete trovare dei video dedicati sul mio canale youtube vado a far clic qua su questo pulsantino questa icona a forma di cartella e apro il file che è stato generato appunto da questa stampante virtuale ora mi viene aperto come potete notare in realtà mi ha stampato tutto il foglio non solo questo pezzettino quindi dovrò andarlo a eliminare ingrandisco bene facendo clic qua sulla lente che trovate in alto ora vado a far clic qui su apri finestra tracce poi faccio seleziona area della traccia quindi vado a selezionare tutto intorno alla mia scritta ad esclusione dei crocini di registro vado a far clic qua su soglia e aumento la soglia indicativamente così ecco poi vado a far clic qua su traccia scollega ora andiamo a togliere prima di tutto il riquadro che non ci occorre facciamo così qua alcune parti vedete che sono separate quindi faccio che con il pulsante di destra e faccio raggruppa ora vado a copiare praticamente quindi faccio sempre che con un pulsante di destra e faccio copia e torno qua nel mio documento allora per le impostazioni del documento dovete far clic qua su apri finestra pagina degli strumenti inseriti per in tutto la macchina che avete a disposizione io una cameo 4 normale tipo di feed lasciate manuale cameo come tappetino mettete o 30 per 30,5 che sarebbe quello corretto io vado a usare quello per 60 e poi come dimensione mettete il foglio avete a disposizione io ho una 4 e quindi a questo punto chiudiamo qua e vado a incollare quindi incollo questo ora chiaramente devo guardare anche se le dimensioni più o meno sono corrette prima però vado a fare il rettangolo come ho fatto su click design space quindi dovrò andare a fare un rettangolo qua controllate che il lucchietto in questo caso sia sbloccato un po come abbiamo fatto su click design space e mettiamo un'altezza di 21 cm per 9,5 ed ecco qua adesso esce un po fuori ma poi faremo la rotazione adesso per comodità diciamo lavoriamo in questo modo ora una cosa buona di silhouette è che silhouette studio ce l'ha in realtà le guide quindi vedete che qua ci sono i reghelli quindi se io volessi mettere una guida a una determinata altezza posso fare semplicemente così e praticamente mi dice qual è l'altezza della guida che vado a inserire quindi dovete mettere a 8 cm è chiaro che così non è semplicissimo perché io adesso sto lavorando fuori dall'area però in linea di massima dovete semplicemente fare una cosa così mettete prima una guida poi una seconda guida giusto per farvi capire io su click design spesso fatto siccome non ho le guide ho fatto una cosa di questo genere avevo questo rettangolo quindi sono andata a duplicarlo in questo caso il comando duplica di silhouette qua e sono andata a metterlo al posto di un'altezza di 21 cm il primo l'ho messo di altezza 8 e quindi ho fatto una cosa di questo genere qua quindi in pratica diciamo che la guida precisa dovrebbe essere qua in sintesi e poi il secondo ho duplicato di nuovo questo è il secondo praticamente l'ho messo a un'altezza di 7 cm quindi qua dovrei mettere 7 cioè questo è il lavoro in pratica che io ho fatto su click design space mentre come vi dicevo su stiletto studio potete andare a inserire diciamo le guide in un certo modo birthday l'ho messo qua adesso andiamo a ingrandirlo un pochino semplicemente comunque sono andata a inserirlo qua sostanzialmente ora è chiaro che così non posso andare a stampare in questo modo vedete perché se lo stampo in questo modo ovviamente mi esce direttamente mi esce proprio fuori dal tappetino quindi dovrei andare a selezionare tutto temporaneamente almeno faccio clic con il pulsante di destra e poi faccio raggruppa poi devo andare a ruotare praticamente quindi faccio così su questo pallino verde e ruoto per la rotazione perfetta anche in questo programma così come praticamente tutti i programmi dovete premere il pulsante shift ecco allora che vado a inserirlo in questo modo le guide posso ovviamente in questo momento anche toglierlo faccio semplicemente così ora a questo punto possiamo fare clic sul pulsante invia attenzione però a una cosa importante se siete abituati a clic a design space con clic a design space il comando raggruppa in fase di taglio assolutamente non serve a niente mentre qua sì vi faccio vedere cosa accade se vado a fare invia così se vado a fare invia così vedete io posso mettere cosa ritagliare cosa non ritagliare vedete però se io adesso qua volessi non ritagliare solo la scritta e faccio clic qua su non ritagliare praticamente essendo un gruppo tutto non me lo fa ritagliare quindi vado di nuovo a fare clic qua su disegno e adesso devo fare separa cioè usate il raggruppamento solo per fare la rotazione ora se faccio nuovo clic qua sul pulsante invia io vado a selezionare praticamente quest'area qui quindi solo quelle esterne faccio taglia ed è solo quella esterna questa invece metto non ritagliare cioè quindi lascio così chiaramente questi qua quindi se vado a fare clic qua su disegno questi rettangoli in più li dovrò andare a togliere quindi faccio di nuovo clic qua sul pulsante invia ed ecco qua così è pronto per il taglio a seconda del tipo di carta che volete utilizzare come per quanto riguarda clic a design e spesso potete scegliere qua se è una carta fotografica chiaramente allora la carta per fotocopie media secondo me non va tanto bene per una carta fotografica dipende ripeto dal tipo di carta che andate a utilizzare però in linea di massima potreste utilizzare cartoncino sottile secondo me tra tutte le impostazioni che ci sono è quella con cui mi trovo meglio perlomeno con la carta fotografica che ho a disposizione io ovviamente ci sono anche altri tipi di carta come potete notare però diciamo che io mi trovo meglio con quella poi vedete voi e ripeto a seconda della marca che state utilizzando a questo punto come per quanto riguarda Cricut o comunque Cricut design e spesso dobbiamo semplicemente mandare in stampa e poi in taglio per mandare in stampa non è come su Cricut design e spesso che te lo propone automaticamente andiamo qua dobbiamo andare a far clic qua alla voce stampa ed ecco che qua abbiamo un'anteprima quindi la cosa importante che voi controlliate sempre le impostazioni della pagina vedete che c'è scritto A4 se tagliate più grande dovete cambiare il formato qua delle impostazioni della pagina quindi andiamo a stampare poi tagliare con la macchina ed eccolo qua questo è il rettangolo che siamo andati appena a tagliare io ho utilizzato una carta fotografica da 120 grammi trovate come sempre tutti i materiali nei miei preferiti di Amazon tutti quelli che non si trovano nel sito necchi shop quindi io con l'aggetto d'inchiostro ho utilizzato questa carta ma eventualmente come vi dicevo con la stampante laser potete usare una carta patinata lucida da 115 grammi ora è normale chiaramente che ci sia decentrato perché in area di progettazione abbiamo proprio fatto così la prima cosa che dobbiamo fare è arrotolarla in questo modo dobbiamo creare una sovrapposizione di circa 2 centimetri andiamo a prendere ora una colla che incolli benissimo potete usare come sempre anche il biodesivo onestamente non lo amo particolarmente ma nel caso un biodesivo di quelli proprio super super sottili e che attaccano non bene ma benissimo io in questo caso comunque come vi dicevo preferisco la colla stick e vado a utilizzare questa che è una di quelle migliori secondo me quindi vado a incollare qua e sovrappongo dopo aver messo la colla vado appunto come vi dicevo a sovrapporre di circa 2 centimetri ovviamente dobbiamo attendere un attimino che la colla asciughi diciamo che questa è abbastanza veloce ecco quindi mi consente di fare anche lavori piuttosto velocemente a questo punto dobbiamo andare a piegare il nostro fagottino attenzione a come facciamo la piega quindi la prima dobbiamo farlo in questo modo così ecco quindi dovete premere in questo modo un po come quando fate un sacchetto di patatine chiaramente andiamo sempre a incollare andando ad applicare la colla qui all'interno dopo aver incollato dobbiamo fare una cosa di questo genere andiamo a prendere delle caramelle dei dolcetti insomma vedete voi quanti ce ne stanno a seconda di quanto sono grandi e dovete però questa volta piegare dall'altra parte quindi qua avete piegato dritto diciamo e qua invece lo fate in senso contrario in modo da ottenere una sorta di triangolino fagottino come vi dicevo quindi andiamo a mettere anche la colla all'interno mi raccomando potete mettere solo cose confezionate chiudete bene che sia vedete perfettamente allineato questi sono dei fagottini che impiegate veramente non dico mezzo secondo ma quasi e potete sfornarne davvero tantissimi per i vostri parti ora per terminare dobbiamo fare una cosa di questo genere cioè prendere un paio di forbici di queste a zig zag sono già carinissimi così ma comunque se volete completare fare a zig zag appunto andiamo a tagliare qui ed eccolo qua guardate il risultato quanto è carino chiaramente se volete potete fare con le forbici a zig zag anche nella parte di sotto quindi ripeto potete realizzarne davvero tantissimi in pochissimi minuti quindi ovviamente anche il prezzo chiaramente relativamente basso vi consiglio di proporli per i vostri parti spero che il tutorial vi sia stato utile come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i corsi micricut.it alla piattaforma corsi micricut.it e soprattutto potete acquistare file digitali su micricut.it slash negozio e infine vi ricordo che ci sono dei corsi se volete avviare un'attività che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio andate su patreon al profilo stefania del principe grazie a tutti